La dottoressa Lucia Paudo che siamo molto impegnate in tutto l'ufficio, in tutto il settore per questa realizzazione di questo evento che non è un evento fine a se stesso, come avete già potuto ben contendere dalla sua, diciamo così, prefazione e anzi ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie di simulazioni che sono simulazioni tra virgolette perché di fatto poi sia assistito a un vero e proprio colloquio di lavoro quindi che va a preparare le persone a quelli che saranno poi i colloqui di lavoro reali, dargli degli stimoli, dei suggerimenti, delle possibilità di valorizzare appieno quelle che sono le loro capacità e le loro attitudini quando poi dovranno palesarle nei colloqui di lavoro cosiddetti reali. Ecco, io mi limito, innanzitutto ringrazio l'assessore Verrino per la sua presenza e per la vicinanza che ha diciamo all'intera questione dei centri di rimpiego, voi sapete che siamo in una fase di transazione, di passaggi di competenze tra varie anche con una fase abbastanza fluida, per non dire liquida, che però ci ha consentito e ci consente in questo momento di organizzare eventi, iniziative importanti e soprattutto utili come quella odierta. Quindi dicevo l'assessore Verrino che ha anche altri importanti deleghi a livello regionale non trascura affatto questa e anzi ci avvicino e ci aiuta nel nostro operare. Un ringraziamento particolare lo voglio fare proprio all'ufficio di colpamento Mirac, che è un'eccellenza del nostro ente, di questo settore, quindi a dirigenti, a primis, a tutti i funzionari, c'è il dottor Saso è qua, è presente al tavolo con noi, a tutti gli operatori che hanno seguito questa, diciamo così, iniziativa, Cristina Liberati, Francesca Rodi, Michela Furmo, Fabrizio Santocchini e tutti gli altri che si sono adoperati per la buona riuscita dell'evento. Questo evento è stato possibile anche grazie alla partecipazione, alla collaborazione e alla, diciamo così, presenza fattiva, perché senza di loro non si poteva fare dei responsabili dell'ufficio personale dei due importanti aziende del territorio provinciale, che sono la GTI, l'ex-reclair di Armanitagia e la AMAR, l'SPA di Sari. Ecco, quindi un ringraziamento particolare alla dottoressa Manuela Campagna e al dottor Gianluca Odone, che sono stati i protagonisti di questa iniziativa. Quindi anche questo è stato un'ottima sinergia dentro il pubblico e privato, ci auguriamo anche che in futuro altre aziende possano partecipare a iniziative di questo genere, perché è davvero poi un riflesso concreto sul futuro delle persone e da un punto di vista occupazionale ci può essere, credo che il tema sia uno dei più importanti che dobbiamo affrontare in questo periodo di crisi. Quindi ogni prospettiva, ogni soluzione che si può trovare per dare un possibile futuro lavorativo alle persone, soprattutto a quelle che devono fare inconti con disabilità di diverso genere, credo che sia importante. L'iniziativa quindi non fine a se stessa, è un'iniziativa concreta che sono convinto come lo sarà.